Non si può perdere tempo in questa legislatura in una guerra atomica per la giustizia, se per la maggioranza la priorità, e noi siamo contrari a queste priorità, ma ne dobbiamo prendere atto, è quella di un lodo alfano che blocchi i processi per le alte cariche dello Stato, lo mettano all'ordine del giorno, vengano in Parlamento, si affronti questo problema, ma evitiamo di bloccare centomila processi per bloccarne uno. È necessario trovare un'intesa, il dialogo non può essere spezzato.